il prete malvagio fu introdotto nella stanza soffitta di un uomo dall'aspetto serio e intelligente che indossava abiti poco vistosi e portava una barba a grigio ferro costui mi parlò nei seguenti termini sì lui visse qui ma le consiglio di non far niente la sua curiosità la espone a dei rischi noi non ci veniamo mai di notte e in ciò rispettiamo la sua volontà lei sa che cosa fece alla fine l'abobinevole congrega prese il sopravvento e non sappiamo nemmeno dove sia sepolto non c'è stato verso per la legge per altre forze di mettersi in contatto con la congrega spero che non vorrà rimanere dopo il buio e la prego di lasciar perdere l'oggetto sul tavolo sì quello che sembra una scatola di fiammiferi non sappiamo che cos'è ma sospettiamo che abbia a che fare con le sue attività evitiamo persino di guardarlo troppo dopo un po' l'uomo mi lasciò solo nella soffitta era polverosa e sballida ed ammobiliata in modo primitivo ma nelle cose c'era un ordine che non faceva pensare all'appartamento di un povero diavolo c'erano scaffali pieni di libri classici e di teologia un altro conteneva trattate sulla magia di paracelso alberto magno tritemio ermete trimegisto borello e altri testi inalfabeti che non ero in grado di decifrare la mobile era molto semplice c'era una porta ma dava in un armadio l'unica via d'uscita era costituita dall'apertura nel pavimento da cui scendeva una scala rozza e ripida le finestre erano del tipo rotondo e le travi di quercia annerite parlavano di un'incredibile antichità era una casa del vecchio mondo su questo non c'è dubbio mi pareva di sapere dove mi trovassi ma non riesco a ricordare le informazioni di cui ero in possesso allora certo la città non era Londra la mia impressione è che fosse un piccolo porto sul mare l'oggettino sul tavolo mi affascinava profondamente sembrava che sapessi come usarlo perché tirai fuori una torcia tascabile o qualcosa che le assomigliava e la provai nervosamente la luce non era bianca ma violetta e più che luce vera e propria sembrava una specie di bombardamento radioattivo ricordo di non averla considerata una torcia normale anche perché in un'altra tasca avevo una pira comune si faceva buio e gli antichi tetti e comignoli all'esterno sembravano deformati dalla finestra con i vetri sporgenti finalmente raccossi il coraggio e sistemai l'oggetto misterioso sul tavolo contro un libro poi mirai su di esso i raggi della strana luce viola ora la luce sembrava una pioggia o alone di particelle piuttosto che un fascio continuo quando le particelle viola colpivano la superficie vetrosa al centro dell'oggetto sconosciuto crepitavano come in un tubo vuoto attraversato da scintille la superficie scura e liscia cominciava a emanare un bagliore rosato e al centro sembrava prendere corpo una vaga forma bianca in quel momento mi accorsi di non essere solo nella stanza e rimisi in tasca il proiettore a razzi il nuovo avvenuto non parlò e per alcuni istanti non sentì alcun rumore sembrava una pantomima d'ombre vista da lontano e attraverso una specie di nebbia nonostante che l'uomo e quelli che lo seguirono ne apparissero grandi e vicini secondo le leggi di un'abnormale geometria erano contemporaneamente vicini e lontani il nuovo avvenuto era un uomo sottile e scuro di altezza media vestito alla maniera dei preti anglicani pareva sui trent'anni con una carnagione olivastra o giallastra lineamenti regolari a parte la fronte altissima i capelli neri erano ben tagliati e pettinati e anche la rasatura era fresca ma era di quelli con la barba forte e quindi aveva un alone azzurro sul mento portava occhiali non cerchiati con le stanghette d'acciaio la corporatura e la parte inferiore del volto erano simili a quelli di altri sacerdoti che avevo visto ma la fronte era molto spaziosa e la carnagione più scura sembrava più intelligente della media e tuttavia nascondeva con abilità e astuzia qualcosa di cattivo in quel momento dopo aver acceso una debole lampada a olio assunse un'aria nervosa e prima che potessi rendermi conto del gesto gettò tutti i libri di magia in un caminetto che si trovava vicino alla finestra dove la parete della mansarda digradava rapidamente prima non l'avevo notato ma ora le fiamme divoravano avidamente i volumi sfavillavano nei più strani colori ed emettevano odori nefasti mentre le pagine coperte di geroglifici e le rilegature mangiate dai tarli soccombevano alla furia del fuoco da un tratto mi accorsi che nella stanza c'erano anche altri personaggi uomini dall'aspetto grave e vestiti alla maniera del clero uno dei quali portava i paramenti e i calzoni al ginocchio dei vescovi non sentivo alcuna voce ma mi resi conto che stavano prendendo una decisione di grande importanza per il primo arrivato sembrava che lo odiassero, lo temessero allo stesso tempo e lui ricambiava quei sentimenti il suo volto assunse un'espressione truce ma mi accorsi che la mano destra con cui aveva afferrato lo schienale di una sedia gli tremava il vescovo indicò lo scaffale vuoto e il caminetto dove le fiamme si erano placate per lasciare il posto a una massa di materia carbonizzata indefinibile e sembrò al colmo del disgusto allora il primo venuto fece un sorriso feroce e allungò la mano verso il piccolo oggetto che si trovava sul tavolo gli altri ne furono terrorizzati la teoria dei prelati cominciò a ridiscendere la scala attraverso la botola che si apriva sul pavimento e nell'andar via si voltavano per fare gesti minacciosi il vescovo fu l'ultimo a uscire a questo punto il primo arrivato andò a una credenza che si trovava in fondo alla stanza e preso una corda salì su una sedia legò un'estremità della corda ad un uncino piantato sulla grande trave centrale e cominciò a fare un cappio con l'altra estremità resomi conto che voleva impiccarsi mi fece avanti per dissuaderlo e salvarlo quando mi vide l'uomo interruppe i suoi preparativi e mi diede un'occhiata di trionfo che mi stupì e mi terrorizzò scese lentamente dalla scala e cominciò ad avanzare nella mia direzione con un ghigno da lupo sulla faccia scura e dalle labbra sottili mi sentì in pericolo mortale e destrassi il proiettore a raggi per difendermi non so che cosa sperassi di ottenere lo accesi glielo puntai in faccia e vidi lineamenti giallastri illuminarsi prima di un'alone viola poi rosato l'espressione di esultanza feroce si tramutò poco poco in uno sguardo di profonda paura che tuttavia non cancellò del tutto l'esultanza si fermò dov'era e poi agitando selvaggiamente le braccia nell'aria cominciò a barcollare all'indietro mi accorsi che fra poco sarebbe caduto nella botola aperta nel pavimento e cercai di gridare un avvertimento ma non mi sentì un attimo ancora ed era precipitato scomparendo alla vista trovai una certa difficoltà nel raggiungere l'apertura con le scale ma una volta arrivato non vidi il corpo del ferito al piano di sotto anzi era il rumore di un gruppo di persone che si avvicinavano portando lanterne l'incantesimo del silenzio era interrotto e a parte i suoni riuscivo di nuovo a vedere le figure nel modo normale a tre dimensioni qualcosa a quanto pareva aveva attirato la folla in quel luogo c'erano stati rumori che non avevo sentito finalmente due personaggi semplici contadini a quanto pareva mi videro poiché erano fra i primi del gruppo e rimasero paralizzati uno di essi grida forte e in modo che le parole eccheggiarono ah è lui un'altra volta tutti si voltarono e fuggirono tutti meno uno quando la folla si fu dileguata vidi l'uomo con la barba e l'aria grave che mi aveva condotto nella mansarda e che era rimasto solo con la sua lucerna mi fissava affascinato come se respirasse a fatica ma non sembrava spaventato poi cominciò a salire le scale e mi raggiunse in soffitta disse dunque ha toccato l'oggetto mi dispiace so quello che è accaduto è già successo un'altra volta ma il soggetto si spaventò al punto che preferì spararsi non avrebbe dovuto permettere a lui di tornare sa che cosa vuole ma non c'è bisogno che si spaventi come quell'altro disgraziato è vero è successa una cosa strana e terribile ma non abbastanza da ferire la sua mente e la sua personalità se riuscirà a mantenersi calmo e ad accettare ciò che è necessario vale a dire alcuni cambiamenti radicali nel suo modo di vivere potrà continuare a godersi il mondo e i frutti della sua cultura ma qui non può rimanere e non credo che le farebbe piacere tornare a Londra suggerirai l'America non cerchi di fare altri scherzi con quella cosa ora non sarebbe più possibile rimandarle indietro ed evocare una qualunque entità renderebbe le cose solo peggiori non se l'è cavata troppo male tutto considerato ma deve andare via subito e rimanere lontano e ringrazio il cielo che il processo non sia andato troppo oltre cercherò di prepararla nel modo più franco è stato un cambiamento nel suo aspetto lui lo fa sempre ma in un paese straniero ci farà l'abitudine c'è uno specchio in fondo alla camera l'accompagno avrà uno shock anche se non vedrà nulla di particolarmente orribile tremavo in preda a una paura mortale e l'uomo con la barba dovette quasi reggermi mentre mi accompagnava all'altro capo della mansarda con la mano libera impugnava la piccola lampada quella che prima si trovava sul tavolo e non la lanterna più fiocca che aveva portato con sé ed ecco ciò che vidi nello specchio un uomo sottile bruno di media statura sui trent'anni vestito da prete anglicano sotto la fronte olivastra eccezionalmente ampia portavo un paio di occhiali senza cerchiatura e con le stanghette d'acciaio era l'uomo che per primo si era introdotto nella mansarda quello che aveva bruciato i suoi libri e per il resto della mia vita almeno esteriormente avrei dovuto essere come lui grazie a tutti grazie a tutti